Buongiorno, grande tristezza per la giornata di ieri, per il risultato fortemente negativo della Nazionale. Ringraziamento a Marcello Lippi, ai giocatori, a tutta la struttura della federazione, allo staff. La federazione o le sensibilità di ognuno di noi, tutte le scelte tecniche. E quindi il fatto che c'è una difficoltà obiettiva di ricambio generazionale, perché questa è una valutazione, non significa né mettere le mani avanti né essere pessimisti per il futuro. Qui non si tratta di essere pessimisti, si tratta di essere realisti e determinati. Nel senso che nulla deve essere interpretato a livello di pessimismo, tutto deve essere valutato a livello di confronto realistico sulle situazioni attuali. La scelta di assumere il tecnico è una scelta completamente mia.